Mi insegna a nuotare? No. Vuoi andare a fare un giretto in pattino? No. Andiamo? Andiamo dove? No, non so, a fare due passi. Noi due. Ma non mi prendi mica in giro? No, no, dico sul serio. Con te ci sto bene. Allora d'accordo. Voilà! Voilà, stronzolo! Tu devi fare come me! Io ti spezzo le ossa del capocollo! Stia fermo! Grazie a te fil di baghello! No, non mi succhi la mia mamma! Dammi, dammi la! No, aiuto! Ti faccio vedere io che il conde è zegaria. Le fratelli mi menzano. Dai, per lo stronzolo! Ah! Aiuto! Per l'ingiappettate con mia mamma! Ti mastico le pelle se ce l'hai! Non ballano! Non ballano! Non ballano! Non ballano! Aiuto! Mi mangi tu i vicinputoli di merdole, mi mangio! Ah! Non ci ho fatto nulla io! Pietà! Pietà! Non ci è pietà per l'ingiappettatore di contesto! Ah, io non so come, ma lui è venuto a sapere che la moglie si era appassionata troppo di culturismo. No! Culturismo? Culturismo dal culo? Aiuto!